Si chiama Noi vi accogliamo ed è il progetto che all'ospedale del Valdarno coinvolgerà le neomamme che dal primo dicembre partoriranno all'ospedale della Gruccia. Ad ogni bambino sarà infatti consegnata una copertina simbolo della vicinanza e del contatto che la mamma ha con il piccolo. Una copertina che fa parte di un progetto appunto quale è quello di cuore di maglia, una copertina che ha una valenza sia fisica per favorire il pelle a pelle con tutti i benefici appunto che il pelle a pelle porta anche nell'ambito della promozione dell'allattamento al seno e una copertina emotiva, un atto di passaggio dall'ambiente autoterino all'ambiente esoterino, una coperta emotiva che favorisce appunto il formarsi questa nuova famiglia. La coperta verrà accompagnata da una pergamena contenente un pensiero di Leboier che è un antesignano della nascita dolce, questo a rafforzare ancora di più il concetto della naturalità e dell'accoglienza emotiva con il quale il nostro punto nascita si vuole connotare. Al momento sono disponibili 300 coperte, la speranza del reparto è che tramite donazioni potranno queste aumentare nel tempo ed essere prodotte di nuove. Cerca comunque sia di valorizzare dei valori importanti, quello del pelle a pelle, quello dell'allattamento al seno e quello dell'integrazione e quello della qualità dell'assistenza, che è una qualità intesa a 360 gradi con tutti gli aspetti che riassume, quindi tempestività nella risposta, qualità dell'assistenza e presenza. Questo è un ulteriore passo in avanti verso il riconoscimento dell'Unicef per l'ospedale del Valdarno come presidio amico del bambino. C'è il percorso che sta conducendo il plesso ospedale della Gruccia ad essere riconosciuto ospedale amico del bambino da parte dell'Unicef. Non ci tengo a pregiare, non si tratta semplicemente di un bollino, ma è un vero e proprio percorso fatto di passi concreti, tra i quali questo che presentiamo stamattina. Sappiamo l'importanza del pelle a pelle nella crescita affettiva ed emotiva del bambino e quindi valorizzarlo con il dono di una copertina a ciascun neonato credo sia un bel segno e si va ad aggiungere ai progetti nati per la musica, nati per leggere, che già hanno fatto parte dell'azione dell'ospedale della Gruccia in collaborazione all'onferenza dei sindaci.